Il programma per la regione, in sintesi, innovazione e apertura, perché nel mondo che cambia vince solo chi innova e si apre. Con fiducia e con coraggio, perché questo è il sentimento dei nostri cittadini. Vanno in tutto il mondo senza paura di nessuno. Con fiducia e con coraggio faremo la Lombardia ancora più forte e più solidaria. Per tutto questo amici, il 28 e 29 marzo portiamo tutti alle U, tutti alle U, perché con tutti alle U la Lombardia è ancora più forte e la faremo come ci piace e come piacerà al mondo.